Siamo arrivati al nostro compleanno, alla festa forza, la festa più importante, la festa di Pesach, Ibe Zrat Hashem, questo Shabbat, abbiamo l'Ela Seder, io ho detto tanto volte che l'Ela Seder Zadikim è come che ogni anno uno festeggia il compleanno, il giorno che è nato, l'Ela Seder, il compleanno del popolo ebraico. E per questo che notte più belle per festeggiare, i mangiare, i gioire della notte dove il popolo ebraico fu nato, perché il popolo fu nato quando è uscito d'Egitto, di essere schiavi del Faraone, siamo liberati della schiavitù egiziana, la schiavitù materiale, la schiavitù di un uomo e siamo divenuto il popolo scelto che fu scelto del creatore del mondo per essere schiavi suo, una sottomissione alla volere della creazione. E questa cosa si deve festeggiare. Quando festeggiamo questo in l'Ela Seder, Ibe Zadikim, l'Ela Seder è una notte così importante. Dice il Zohar che il sole notte è nell'anno che non viene chiamato notte, però addirittura giorno. Ci sta così una luce spirituale che scende, che questo notte non viene chiamato o considerato un notte, viene chiamato giorno. De dove sappiamo? Il Maestro viene chiamato l'El Shimurim Lashem. Ci sta una lachà che è un uomo di notte, non può andare fuori della casa, al campo, girare. Perché è notte, dite il Maestro, è un tempo pericoloso. Sia materialmente, che ci sono gente strani nella strada o nel campo, però sia spirituale, ci sono forze spirituali cattivi di notte. Dignano le maestri, però è nel notte, dite la Seder. Si può andare da solo nel campo e non si deve avere paura, perché questa notte non è considerata un notte, perché c'è così tanto abbondanza spirituale che scende dal cielo che viene considerato giorno. Ovvio che nella Seder nessuno ha tempo per andare a girare al campo di solo. Poi c'è, abbiamo così tante cose da fare. Dice il Zohar, non solo questo. E nel la Seder, il cielo è voto di creazione celesti. Ha Kadosh Baruch Hu, la Shekhina non sta in il cielo. Le Angeli non ci sono. Dove sono? Sono con noi, in le nostre casi. Tutti gli Angeli e a Kadosh Baruch Hu stesso vengano a sentire la storia della Haggadah, le mitzvot di Lela Seder. Fate capire quanto questo giorno è santificato. Quando uno si sede in Lela Seder, deve avere la sensazione, perché così è, però deve cercare di sentirlo. Adesso nella sua casa ci sono Angeli che sono venuti a sentire lo che lui sta facendo. A Kadosh Baruch Hu stesso è sceso per vedere lo che noi stiamo facendo. E per questo, solo il fatto che noi siamo così avvicini a Kadosh Baruch Hu, che è sceso fino a noi, solo per questo si deve gioire. E per questo, tzaddikin, questa notte non è come tutte le altre notte. Non è un notte per scherzare. Non è un notto per parlare di sciocchezze. Sono minuti, secondi, spreciosi. Ogni minuto, ogni secondo, ogni ora, deve essere come un tesoro. Dile maestri, la salvezza di tutti i problemi ci sta in questa notte. Dile maestri, perché questa notte viene chiamata Lela Seder? Lela Seder voglio dire la notte dell'ordine. Perché ci sta in ordine, ci sono quindici tappi che dobbiamo fare, Kadesh, Unchatz, Karpassi, Achatz, eccetera. Ci sta in ordine, non si fa qualsiasi cosa. Non puoi mangiare quando vuoi. Normalmente vai, hai fame, fai kiddush, amo, si mangi. No, adesso aspetta. Il cibo viene solo attraverso il vino. Facciamo kiddush, mangiamo, facciamo il bicchiere, facciamo l'agadà, facciamo l'amazà, facciamo il maror, facciamo il haros. Dopo solo. Dopo arriviamo al cibo. Qui possiamo capire che questa notte non è un notte come tutto. Tu devi raccontare la storia di l'agadà alle tue figlie, alla tua famiglia. Dice Shavuqana, c'è un obbligo a raccontare. Molto debete essere attento. Non c'è scritto in ebraico ve karata. Karata in ebraico vuol dire leggerette. Non c'è scritto in la Torah che debete leggere. Debbete, che debete fare? Ve yigadeta. Yigadeta in ebraico vuol dire raccontare. L'agadà viene chiamato haggadà del verbo le hagid. Le hagid è raccontare. L'agadà che abbiamo, il texto, serve solo per arrivare all'obiettivo. E l'obiettivo è raccontare a tutta la famiglia. Dice Shavuqana, uno che ha figli e figli, uno che ha una moglie e moglie, uno che ha famiglie e famiglie. Dice Shavuqana, anche se uno sta da solo, non lo so, Covid, da solo, qualsiasi uomo. Speriamo di no, però se uno sta da solo a casa, deve parlare a voce alta e a suo stesso. Raccontare a suo stesso la storia, perché questa notte, l'obiettivo è uno, raccontare la storia d'Egitto. Anche il rabbino più grande, che tutto l'anno forse studia cosa profondo, forse Gmarò, Tialakha, Iqabalà, questa notte, come un bambino, racconta solo dell'uscita d'Egitto. Non si parla di un'altra cosa. E per questo, Tzadikin, se voi pensate che si può arrivare a Lela Seder, e aprire il sidur, e iniziare a leggere la Gadai, raccontare, non esiste. Già adesso, che adesso? Già mesi fa, uno aveva bisogno di preparare la storia d'Egitto. Deve preparare e studiarla. Ognuno secondo il suo livello. Se hai un bambino di quattro anni, livello di quattro, dieci, dieci, venti, venti. Ognuno nel suo livello. Se volete, ci sono tante le registrazioni di tutte le parachute che abbiamo parlato. Vedete un po' le parachute di Shemot, Bol, Vaira, Beshala. Uh, Baruch Hashim, ci sta tanta materia. Molto importante. Questo è l'obiettivo di questo notte. Il bevezza di Kim, che ci sta così tanto a parlare sull'Ela Seder. Il Bezrat Hashem, cercheremo, perché come sempre non possiamo toccare tutti i punti, perché anche se parleremo per ore, non ci arriviamo a spiegare un po' che è l'Ela Seder. Prima cosa, questa festa viene chiamata Chagapessa. Perché viene chiamata Chagapessa? La parola Pesach in la Torah viene menzionata quando hanno fatto il popolo ebraico il sacrificio del Pesach. Che era il sacrificio del Pesach? Il sacrificio che hanno fatto dell'agnello. Abbiamo raccontato già la settimana scorsa che hanno sciartato questo agnello, e hanno preso il sangue, e hanno messo sulle stipidi delle porte per essere protetto della piaga delle primogeniti. che c'era bisogno di essere a mezzo notte. Sedi Kim, anche nella Seder, noi facciamo la Keara, e in questa Keara mettiamo tante cose, il mazzà, il maror, il haresto, l'uovo, che abbiamo anche, abbiamo il pezzo di carne che si mette, che questo che si mette, carne è solo un ricordo. Non è il sacrificio, non è il sacrificio, non possiamo sacrificare, è un ricordo del sacrificio di Pesach. I behemet, se vogliamo approfondire, dobbiamo prima capire che vuole dire questo sacrificio. Che vuole dire un sacrificio? Abbiamo già parlato un po' e nei parashot scorsi del sacrificio. Per oggi voglio toccare un altro punto totalmente. C'è scritto che Shlomo HaMelech ha scelto fare l'altare, il Betamigdash a Gerusalemme, il posto dove si faceva tutti i sacrifici, in un posto molto particolare. Dicano le maestri, in questo posto c'erano quattro sacrifici storici. E nel stesso posto, nel Betamigdash, dove c'era l'altare, dove Shlomo HaMelech ha scelto che ogni ebreo, quando va al Betamigdash, pensateci perché sarà pronto con il Mashiach, il terzo Betamigdash, è nel stesso posto di altri quattro sacrifici precedenti. Il posto dove Avraham ha voluto shaktare il suo figlio Yitzhak nella Nisaion dell'Akkedah, è nel stesso posto. È nel stesso posto dove Noè, quando Noè è uscito dell'Anka, Noè ha fatto un sacrificio e questo sacrificio tzaddikin, dovete sapere, è un sacrificio molto piacevole nell'occhio di Yashem. Forse è il sacrificio più piacevole di tutti. E c'è scritto, quando Noè esce della sua arca per fare il sacrificio, c'è scritto, Yashem ha sentito l'odore gratuito del sacrificio di Noè. Gli ha detto, non deve più fare un diluvio, non deve più distruggere il mondo. Quindi Yashem ha scelto non fare un diluvio da più, ha scelto non distruggere ancora il mondo solo per l'odore del sacrificio di Noè. E noi dobbiamo capire, è nessuno sacrificio che fu dato, nì di Avraham, nì di Yaakov, nì di Yitzhak, c'è scritto che ha fatto piacere per la Kadosh Barucho. Qual è altro il sacrificio? Ci approfondiamo dopo Bezrat Hashem. Kaini Abel, il sacrificio famoso che Kaini Abel hanno dato, anche quello era esattamente Abeta Migdash, nel posto dell'altare. E chi è il primo che ha fatto un sacrificio in questo posto? Adamo. C'è scritto che anche Adamo, ha fatto Adamo e Rishon, ha fatto un sacrificio. Quindi il Bezrat Migdash, il posto dove si fa le sacrifici, abbiamo quattro sacrifici storichi. Abbiamo il sacrificio di Avraham, del suo figlio Yitzhak, che nel film non era. Abbiamo il sacrificio di Noè, abbiamo il sacrificio di Kaini Abel, e abbiamo il sacrificio di Adamo e Rishon. E come sempre, per capire un concetto si deve andare all'inizio. e voglio toccare tutti questi quattro sacrifici in breve, per capire che voglio dire un sacrificio. Iniziamo con Adamo e Rishon. Perché Adamo e Rishon ha fatto un sacrificio? E quanto? E in che tempo ha fatto? Le maestri raccontano che Adamo e Rishon fu nato, quando fu creato, Adamo e Rishon, Adamo e Rishon fu creato venerdì, a mezzogiorno, piena luce. Sapete quando è la prima volta che Adamo e Rishon ha visto l'oscurità, ha visto la notte? Ci sono passato 36 ore del momento che fu creato Adamo e Rishon fino a che ha visto per la prima volta l'oscurità e il buio. Perché? Perché fu nato venerdì a mezzogiorno e c'era luce, c'era solo luce, non c'era un'altra cosa. Anche di Shabbat, perché noi sappiamo si fu nato venerdì, venerdì a sera deve tramontare, non fu, non c'era tramonto. E luce ha continuato di venerdì mezzogiorno fino all'uscita di Shabbat. 36 ore di luce dell'inizio della creazione di Adamo e Rishon. Perché fu così? Perché venerdì sera non c'era tramonto, perché non c'era oscurità? Diano le maestri, perché è molto semplice, Adamo e Rishon non aveva bisogno vedere l'oscurità, non aveva bisogno vedere il buio. E il buio, la notte, ossia una reazione del peccato che lui ha fatto. Se non era per il peccato di Adamo e Rishon, c'era 24 ore su 7 luci. Quindi Adamo e Rishon venerdì a mezzogiorno ha visto le luce e quando era venerdì sera non ha tramontato. Perché? Perché ha detto è il sabato, scusa, tu vuoi che il primo buio del peccato di Adamo e Rishon sarà nel mio giorno che è santificato? Abbiamo già raccontato di smorscire le Yoma Shabbat. Quindi è la prima volta che Adamo e Rishon ha visto l'oscurità era di Mozzè Shabbat. C'è scritto che quando Adamo e Rishon ha visto questa oscurità che il sole è andato via, Adamo e Rishon aveva paura. Ha pensato forse questo fino del mondo. Ha detto, ovvio, questa è la punizione per il fatto che ho mangiato dell'albero della conoscenza. In parentesi, noi perché Mozzè Shabbat facciamo l'avdala? Perché Mozzè Shabbat è il momento dove Adamo e Rishon ha scoperto il fuoco. Perché in questo momento ha scoperto il fuoco? Perché prima non aveva bisogno di fuoco. Perché tu sempre c'era l'uscio. Non aveva bisogno di fuoco per illuminare. Però Mozzè Shabbat ha fatto Adamo riuscire scoprire il fuoco. E per questo ogni Mozzè Shabbat facciamo l'avdala che ha creato la luce che viene del fuoco. Questo fuoco che fu scoperto di Adamo e Rishon. E Adamo e Rishon aveva paura. Ha capito che lui ha peccato. Ha detto devo fare un sacrificio. Qual è il sacrificio che lui ha portato? Lui ha portato un animale con un corno. Sempre la vacca c'è due e lui ha portato uno con un corno. Perché? Perché Adamo e Rishon in un senso ha fatto idolatria perché lui non ha fatto la volontà del creatore e voleva far vedere che lui ha capito che ci sta solo un creatore. E in che posto Adamo e Rishon ha deciso fare il sacrificio che va a spiare per fare i suoi peccati. Ha pensato Adamo e Rishon dove sarà un posto piacevole per fare un sacrificio per il creatore. Per il peccato che ho fatto. Ha detto Adamo e Rishon non c'è un posto meglio del posto dove Kadosh Baruch Hu ha preso il pezzo di terra che ha usato per crearne. Perché noi siamo polvere della terra. Come fu creato Adamo e Rishon? Kadosh Baruch Hu ha preso un pezzo della terra polvere e ha fatto Adamo e Rishon e ha dentro ha soffiato la sua anima. Dice Adamo e Rishon si voglio espiare il mio peccato che ho fatto deve andare al mio inizio. Ha andato a cercare il posto dove Kadosh Baruch Hu ha preso il polvere per creare il suo non solo. Ha fatto il sacrificio nel posto dove è venuto a presere il polvere della testa di Adamo e Rishon. Quindi il primo sacrificio viene fatto è nel posto da dove la umanità fu creata. Dove Kadosh Baruch Hu ha preso il polvere non c'è un posto più meglio per espiare il peccato dell'inizio della creazione. E questo è il sacrificio di Adamo. Qual è la storia del sacrificio di Kaini a Abel che era in la stessa posta dove il loro padre ha fatto c'è fare con lei la sede. C'è scritto che Adamo e Rishon ha detto alle sue figlie i figli mie oggi è un giorno speciale oggi è il giorno di Pesach e saprete che in questa notte il cielo è aperto e ci sta una grande ambutanzia che scende nel mondo. Adesso voi potete chiedere oh scusa non c'era Pesach ancora l'ebrei non sono usciti di che Pesach stiamo parlando che luce è sceso e questo è un concetto che dobbiamo sapere di chi le feste le tempi sono santificati ancora prima le eventi che sono succese in questi giorni e la notte di Pesach c'era una luce spirituale che scendeva ancora prima il miracolo dell'uscita d'Egitto perché il tempo è un tempo santificato che fu ancora santificato quando Akkadosh Barho all'inizio ha capito che un giorno lui va a uscire il popolo ebraico e per questo Adama rischiona ai tuoi figli mie una notte così ma possiamo lasciare andare a fare un sacrificio perché Hashem avrà piacere su di voi e che vi manda tutta la bendizione del mondo e Cain avevano fatto un sacrificio che ha portato Cain conosciamo tutta la storia ha portato Lino perché Cain ha portato Lino perché Cain sapeva che in questa notte ci sarà la distruzione della sua accendenza e il faraone e il popolo egiziano e l'accendente di Cain e Cain voleva rafforzare la loro forza quindi ha portato un sacrificio di Lino perché Lino è il pishtane in ebraico era la pianta che si cresceva in Egitto perché perché il Nilo nella Torah viene chiamato il fiume del Pishon Pishon Pishtan ossia il Lino ha la stessa radice del nome ebraico del Nilo ha detto Cain se io voglio che questa notte non sarà la distruzione del mio popolo egiziano che sono il mio accidente devo fare un sacrificio di Lino e che succede non fu accettato invece Abel che ha fatto Abel Abel ha detto anche io lo so che io sono la forza dell'ebraico perché Shem che il terzo figlio è una rincarnazione di Abel lo facciamo corto perché ci sta così tanto di parlare ha detto Abel io debbi alzare il forza del popolo ebraico quale sarà il mio sacrificio un capretto è il stesso capretto che loro mille anni da oggi metteranno sulla stipide della porto può essere salvato dell'egiziano quindi vediamo che la discussione tra Egitto e il popolo ebraico questa forza questa battaglia tra le forze della scurità tra la forza della luce che il popolo ebraico già e Cain e Abel già era dentro di questa battaglia i behemet ci possiamo approfondire su questo punto però dobbiamo un po' andare avanti quindi il secondo sacrificio che è il sacrificio di Cain e Abel non era un sacrificio di espiazione di peccato come il loro padre Adam era un sacrificio per ricevere le bontà la bontà di le la sed andiamo al quarto sacrificio di Avram e Isra questa storia non dobbiamo raccontare Kadosh Bauch chiede di Abramo prendere il suo figlio e sacrificarlo invece vogliamo un po' capire il sacrificio di noi perché abbiamo detto che tutti i quattro sacrifici che si fa questa notte che si fa questo sacrificio che fu fatto nel posto dove fu creato è l'altare il sacrificio più gratuito di tutti allora il sacrificio di noi dobbiamo capire perché perché a Shem piace più di tutti il sacrificio di noi più di Abramo più di Caini Abelo anche più di Abram Israq che è così speciale questo sacrificio di noi e per capire questo dobbiamo capire quali erano le intenzioni di Noè quando lui ha fatto il sacrificio che volevi Noè espiare un peccato no anzi lui è il solo di tutto il mondo che è rimasto vivo quindi è un senso non aveva un peccato quindi perché lui vuole dare un sacrificio di chi ci sta un alachà e questa è l'alachà della brachà di Hagomel qual è l'agomel ci sono quattro eventi quando succedono nella vita che uno deve fare bircata gomel al tempio quali sono questi quattro eventi e l'acronimo di questi quattro eventi fa la parola Chaim che vuol dire Chaim vita se prendiamo la parola Chaim vita in ebraico lo spezziamo nelle quattro lettere abbiamo quattro punti dove un uomo ha un obbligo andare al tempio fare una benedizione di ingraziamento non peccato non voglio abbondanza solo ingraziare il primo dicono le maestri è Havush la di Chaim uno che era nel prigione lo è uscito del prigione deve ingraziare Hashem perché noi sappiamo che un uomo che sta nel prigione non è un uomo vivo in un senso è un uomo morte perché non ha libertà di fare la volere di creazione è sottomesso è come un schiavo in Egitto quindi il primo che deve ingraziare è quello che esce del prigione il secondo dicono le maestri è quello che è andato nell'acqua e nel mare con un vivo perché dicono le maestri il mare può essere crudele mai si sa che si succede nel mare il terzo che deve fare un brachà di agomel è uno che ha avuto malattia uno che ha avuto una malattia maesia era nel suo letto e non aveva la capacità di uscire del letto e della brachà di agomel per esempio anche una donna che parturisce fa la brachà di gomel perché in un senso lei in questo momento non può andare camminare c'è il momento dove lei parte che lei non può uscire del letto fisicamente non ha la capacità quindi abbiamo detto il mare il prigione la malattia e il quarto è quello che va nel deserto uno che è entrato in un deserto è uscito vivo deve fare la brachà di gomel dovete sapere che antiguamente non si faceva questa brachà invece di fare questa brachà si andava al betta mi dash e si dava un sacrificio un sacrificio di ingraziamento oggi come oggi non lo abbiamo quindi facciamo la brachà di agomel dicono le maestri quando noi è uscito della barca ha fatto un sacrificio di gomel ha fatto un sacrificio di ingraziamento sa di chi quelli delle quattro punti delle quattro condizioni lui aveva perché ha fatto il sacrificio non è maestri che noi aveva tutti le quattro condizioni uno era nel prigione per un anno non poteva uscire dell'arca non aveva la libertà non c'era dove andare quindi noi è considerato uno che è uscito dal prigione due con la barca con l'acqua abbiamo detto uno che fa un viaggio sull'acqua deve anche ingraziare tre lui anche era malato sapete quanto noi era malato ma si raccontano che un giorno perché il lavoro di noi è un lavoro molto interessante ogni giorno andare a dare cibo all'animale un giorno noi ha fatto tardi per dare cibo al leone e il leone aveva fame perché noi è venuto tardi e quando il leone ha visto noi quando aveva famissimo perché sapete il leone è un animale molto particolare quando ha fame lui è pericoloso può mangiare qualsiasi umano chasve shalom però quando lui ha mangiato bene è un animale tranquillo non puoi avvicinare a lui può toccarlo non ti farà niente se non ha paura di te quindi noi è arrivato tardi in questo momento il leone era pericoloso e che ha fatto il leone ha mangiato Noè e dico le maestri che è miracoloso Noè è uscito di questo quindi Noè era anche malato Noè anche nel letto non poteva uscire però la quarta qual è la quarta la quarta ragione è uno che è andato nel deserto che deserto ha visitato Noè dicono le maestri dove è il barca del Noè è scesa sulle montagne di Hararat dove sono questi montagni e le maestri che secondo la Midrash questi montagni sono a Turchia adesso dove lui ha fatto il sacrificio abbiamo detto è nel posto del Beta Midrash quindi lui quando è uscito delle montagne di Turchia ha fatto un giro di viaggio di Turchia fino a Gerusalemme per dare il sacrificio quindi lui ha passato non uno però tanti deserti nel cammino quindi Noè sta ingraziando per le quattro punti che un uomo deve ingraziare quindi il sacrificio di Noè non era né perdono né inobbligatorio non fu comandato di Akkadosh Bar no ha detto Noè io sento è l'obbligo di ingraziare dire alle maestri di tutti i sacrifici che furono fatto il sacrificio che fu più gradito di Hashem è quello perché più che Hashem lo piace che tu chiedi scusa e dici perdono o fai un donazione perché vuoi che Hashem ti manda la bontà come Kaini Abel la cosa che Hashem lo piace più di tutto è quando tu non chiedi niente solo riconosce la sua bontà e dici tu sai non voglio niente lascia fare voglio solo dare un sacrificio di ingraziamento dicano le maestri questo viene chiamato corban ti apre le porte le porte del cielo tu vuoi che Hashem ti manda abbondanzia tu vuoi che Hashem ti manda salvezza non deve piangere non deve fare un sacrificio di una cosa deve ingraziare le sue porti si aprono quando tu ingrazi e tutto l'è la sede di questo ingraziamo per il fatto che fu salvato dal popolo d'Egitto del fatto che il popolo ebraico fu scelto però la verità che vogliamo un po' approfondire che voglio dire che noi di l'è la sede ringraziamo quando uno ingrazia sembra che debba dire e raccontare solo cosa piacevole per noi l'è la sede ci parliamo di tante cose che non sono così piacevoli parliamo di tante forze disgrazie come si può ingraziare qualcuno con disgrazie e voglio approfondire ancora di più di tutte le cose che non facciamo l'è la sede ci sta il punto buono che è la luscia e l'ingraziamento però ci sta anche al contrario ci sta lo alleno il punto cattivo che è il disgraziamento e che voglio dire la prima cosa che facciamo di l'è la sede qual è la cosa facciamo kiddush sul vino ci sta una mitzvah bere questa notte quattro bicchiere di vino perché beviamo quattro bicchiere di vino non solo questo dico le maestri questo vino deve essere un vino rosso la mitzvah di l'è la sede non si fa con un vino bianco si fa o con vino rosso oppure uno che ha difficoltà con suga di uvo rosso perché che simbola questo vino e perché quattro bicchiere di vino dico le maestri è il primo ragione perché beviamo il bicchiere di vino è perché vogliamo ricordare a Kadosh Baruch Hu le nostre meriti perché siamo usciti d'Egitto sai di chi mi abbiamo detto il popolo quando era in Egitto era molto giù era nel quarantannavesimo porto di impurità non facevano mitzvot anzi ha detto il satan e gli egiziani sono idolatri e il popolo ebraico sono idolatri che meriti hanno per uscire e Kadosh Baruch Hu ha detto due mitzvot abbiamo già raccontato con il tuo sangue e la vita con il tuo sangue e la vita e quale sono questi due mitzvot uno prendere l'anielo che è l'idolo di Egiziani e il secondo fare la Brit Mila e loro hanno preso il sangue dell'anielo insieme tanti lo lo sanno insieme con il sangue del Brit Mila che hanno fatto l'hanno meschiato e hanno messo sui stipidi della porta quindi quando beviamo il bicchiere di vino rosso vogliamo far ricordare a Kadosh Baruch Hu qual è il merito che siamo usciti d'Egitto non solo questo questi quattro bicchiere di vino rosso simbolano le quattro parole di salvezza c'è scritto nella Torah quando Kadosh Baruch Hu ha fatto uscire quattro parole le Ozzetive la Cartive legalti beveti quattro parole di salvezza quattro promessi di salvezza ci ha mandato il proprio ebraico che era in Egizia in Egitto quattro promessi di salvezza abbiamo quattro bicchieri non solo questo c'è chi dice che il vino rosso simbola il fatto della prima piaga qual era la prima piaga la piaga del sangue quindi che bello iniziare il sede con la prima mezzata del bicchiere di vino rosso con la prima piaga quindi vediamo che il vino simbola tutti di cosa bella e qui ci sta un punto interessante ci sta un altro ragione perché facciamo il bicchiero del vino rosso per ricordare tutti le bambini che ha ucciso il faraone per bagnare dentro il loro sangue c'è scritto che il faraone aveva una malattia di pelle molto grave e le doktori hanno detto a lui che il meglio modo di uscire dalla sua malattia è prendere sangue dei bambini giovani e fare una doccia un bagno con questo sangue dice il faraone faceva un bagno alla mattina con 150 bambini che lui uccideva per il loro sangue e uno di notte sono 300 bambini che lui scartava dico la maestria il vino rosso viene anche simbolare questo sangue che il faraone ha fatto togliere di questi bambini e qui sa di chi dobbiamo chiedere però io non capisco il vino simbola le cose bene la salvezza il fatto che siamo usciti d'Egitto il sangue sulle stipidi tutto questo positivo perché devo ricordare il sangue che il faraone ha sciartato e qui primo punto però non termina si vediamo ci approfondiamo tutti i punti nella sede abbiamo il buono e il male perché si mangia l'ammazzazza di chi l'altra mizzà che abbiamo in Pesach molto importante l'ammazzà perché si mangia l'ammazzà dicono la maestra il primo ragione per fare ricordare il fatto che siamo usciti d'Egitto quando il popolo era pronto per uscire d'Egitto chi bechi pazon le egiziane fate via veloce non vogliamo averti qui perché hanno paura anche il faraone evaporò perché lui era primogenito quindi il pane non aveva tempo per essere gonfiato e questo pane è rimasto piccolo quindi perché mangiamo l'ammazzà di Pesach per ricordare questa cosa bella il giorno che siamo usciti d'Egitto e c'era così fretta che il pane non ha poduto levitare questo è il primo ragione però ci sta un'altra ragione che cantiamo ogni della sede questo è il pane traduco che hanno mangiato le nostre avi in Egitto io non ho capito quando hanno mangiato l'ammazzà e l'Egitto quando sono uscito quando sono uscito sono uscito l'ammazzà non fu mangiato in Egitto fu mangiato quando sono uscito quindi perché diciamo se il merito questo venerdì sera questo è il pane che hanno mangiato le nostre avi in Egitto non fu mangiato l'ammazzà in Egitto sapete che hanno mangiato gli ebrai in tutti questi anni di schiavitù in Egitto hanno mangiato mazzotti non hanno mangiato pane perché perché questi oppressori egiziani che davvero erano cattivissimo le loro intenzioni erano malissimo noi diamo pane al popolo ebraico noi sappiamo che il pane è una cosa molto interessante più che il pane è gonfiato più che è levetato meno tempo che ti assazi quindi hanno detto gli egiziani se noi vogliamo dare poco cibi a questo ebraico e che sarà tanti tempo in loro stomaco così non dobbiamo darlo tanti cibi dobbiamo dare pane che non è gonfiato l'ammazzà quelli che loro hanno fatto era una cosa che rimane nel stomaco tanti tempo quindi l'ammazzà non simbola solo il fatto che siamo usciti d'Egitto è anche un ricordo per la schiavitù che noi abbiamo mangiato solo mazzò davvero a noi piace il mazzò però immaginate mangiare tutto l'anno solo mazzà non so quanto gente vorranno mangiare tutto l'anno si vede appena esce pesa tutti vanno un pezzo di pizza un pezzo di pane quindi loro hanno mangiato giorno dopo giorno mazzà e non quella mazzà bella che abbiamo mazzà delle oppresore quindi anche qui che simbola l'ammazzà mazzà simbola la salvezza o mazzà simbola la schiavitù i bemeti i maestri dicono questa è la bellezza che il pane del lutto il lutto è il pane del gioia è il stesso pane che tu hai piangendo come schiavo quando non aveva nessuna cosa a mangiare fuori del pane è il pane che tu vai baciare perché la usanza è nella sedere baciare l'ammazzà quanto è santa l'ammazzà non potete immaginare il Zohar chiama l'ammazzà il cibo della fede dice il Zohar più mazzà che mangerai questa notte più che avrai fede non mi chiedete che c'è fare mangiare materiale con fede per così dice il Zohar quindi anche qui abbiamo due concepti che sono diversi e il carpas Sadiqim qual è il carpas quando mangiamo il carpas il sedano si prende un piccolo pezzo dove lo tingiamo questo carpas viene tinto ci sono due usanze c'è che prendano acqua con sale e c'è che prendano acqua con aceto o c'è che prendano solo aceto perché si mangia il carpas che fa ricordare questo carpas Sadiqim dovete sapere questo carpas secondo la la classe deve mangiare un piccolo pezzo meno di 18 grammi non si può mangiare tanto però non potete immaginare quanti secreti ci sono in questo carpas se vogliamo possiamo parlare ore solo su questo carpas perché si mangia il carpas prima ragione dicono i maestri del carpas è che il carpas è un tipo di vestito è un tipo di tessuto e nella Megillah quando leggiamo delle tessuti del re Achajverosh tutto è collegato sempre c'è scritto tre lettre curve carpas quindi carpas è un tipo di tessuto adesso che tessuto vogliamo noi parlare e ricordare della sedia il maestri carpas è il tipo di tessuto che ha fatto Iaachov per il suo figlio Gioseppe c'è scritto che Iaachov ha presso carpasin è un tipo di tessuto per fare il vestito di Gioseppe anche carpas c'è la parola pas pas in ebraico vuol dire righe il tessuto di Gioseppe era con righe questo rigo blu rigo bianco grande discussione tra le maestri che coloro aveva il vestito di Gioseppe adesso il vestito di Gioseppe che hanno fatto che hanno fatto dei fratelli con il vestito di Gioseppe lo hanno tingiato dove? nel sangue dopo la vendita di Gioseppe hanno messo nel sangue adesso voi chiedete però sì è sangue perché dobbiamo mettere sale perché non prendiamo un'acqua rosso perché dobbiamo tingere il carpasse nell'acqua salata o in un aceto perché l'acqua il liquido simbola l'acqua e il sangue dove è frutto intorno però l'aceto e il sale simbolano tutti le lacrime che ha fatto Jacop vino tutti questi anni che lui ha piagendo per il suo figlio Gioseppe e mai si raccontano che quando uno muore mai sia non vogliamo però quando uno familiare muore dopo un anno la sofferenza diviene più facile perché uno degli regali più grandi che Hashem ha dato a noi è dimenticare dimenticare è un regalo a volte no perché a volte le cose che non dobbiamo dimenticare che sono le cose belle a volte vogliamo dimenticare però Hashem ha saputo se il momo non aveva la capacità di dimenticare immaginate il dolore del primo giorno il sofferto di primo giorno che uno perde qualcuno immaginate questo dolore rimaneva per sempre non lo so quanti il sofferenza il momo era capace di apprendere se lui sempre ricordava tutti il dolore noi sempre diciamo il tempo guarisce perché più che passa il tempo più che si dimentica però Yaacov vino a tzadikim si dice che per 20 anni 21 anni lui ha sofferto e sentito il stesso dolore come il primo giorno del dolore che lui ha scoperto che il suo figlio secondo lo che lui pensava era morto immaginate quante lacrime e di quando prendiamo questo carpas che abbiamo il vestito di Giuseppe nel sangue che è del sale e del aceto che sono le lacrime di Yaacov adesso voi potete chiedere che c'è fare questo con tutto perché noi arriviamo in Egitto abbiamo raccontato la storia iniziata con la storia di Giuseppe se non era per la vendita di Giuseppe le fratelli e Yaacov erano arrivati a Egitto e non c'era la schiavitù quindi vediamo che il carpas fa ricordare una cosa forse molto molto brutta possiamo dire abbiamo detto che ci sono due peccati molto 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 grave che fino ad oggi paghiamo uno è il vittello quindi il carpas vediamo non fa ricordare una cosa così piaceva o dell'altro ma sì che ci sta un'altra ragione il carpas fa l'acronimo decol rechef sus parò quando c'è scritto questo versetto quando gli egiziani sono entrato e nel mare sono morti quindi il carpas simbolano gli egiziani e l'acqua salata simbola il mare che era salato che loro sono morti dentro e perché il carpas è la prima cosa che facciamo dopo il kiddush perché tu prima di raccontare tutta la sofferenza e tutta la godà e tutta la storia tu vuoi già è come quando tu compri un libro ti dicono già all'inizio quale sarà il fine e le maestri già sa il fine e nel fine gli egiziani saranno nel mare salato saranno morti nel mare salato quindi anche qui vediamo che il carpas ha due cose al contrario da un lato simbola la sofferenza di Giuseppe e le lacrime di Jacob o dall'altro lato simbola il fatto che siamo usciti d'Egitto il fatto che gli egiziani sono morti non solo questo dicono maestri carpas se prendiamo le lettere e cambiamo l'ordine fa la parola samer samer può dire 60 pare perché 60 perché 600 1000 ebrei hanno lavorato una schiavitù dura questa schiavitù dura in ebraico viene chiamato pare quindi le stesse lettere voglio dire carpas quindi il carpas simbola la schiavitù e anche qui Sadikim c'è a capire non capisco che devo parlare in questa notte delle disgrazie o delle cose belle devo ricordare il peccato di Giuseppe e le lacrime di Jacob o devo essere felice che sono uscito d'Egitto che devo fare in questo l'Elasenia non solo questo Sadikim ci sta il haroset qual è il haroset quando si prende il maror che il maror forse è la sola cosa che simbola solo cosa cattiva non c'è il maror non ha il maror fa ricordare la schiavitù che è amara che è amaro si prende con la mazza e si mette la haroset questa cosa dolce c'è gente che lo piacciono mettere tanto la verità che non va bene se ne mette solo un po' perché tu devi assaggiare il gusto della mazza quando si fa il sandwich tra il mazza e il maror insieme e si mette un po' di haroset perché si mette un po' perché tu devi gustare il sapore del mazza e gustare il sapore del maror quindi il mio consiglio prendete mazza maror poco haroset mangiate uscite d'obbligo dopo si volete prendete la mazza mettete quanto haroset che volete quando si arriva al tempo che si mangia il haroset che simbolo questo haroset anche qui due cose il haroset simbolo è il cemento dire le maestri che il lavoro più duro del popolo ebraico e l'Egitto era tutto il giorno meschiare il cemento che lo facevano con le loro piedi era un lavoro molto molto duro dicono le maestri abbiamo raccontato una volta una storia di una donna che ha perduto il suo figlio mentre che ha fatto questo cemento insieme con le piedi non voglio un percorso un'altra lezione quindi il haroset fa ricordare una cosa molto cattiva questa storia della schiavitù che era una sofferenza molto forte dall'altro lato dico il haroset vedete quante cose dobbiamo imparare siamo parlando solo pochi minuti solo per capire tutte le cose tutte le simbolizzazioni ci sono tante il haroset fa ricordare un'altra cosa un bellissimo miracolo c'è scritto che il popolo ebraico ogni donna quando era incinta secondo l'opinione meno rigoroso faceva sei figli dove faceva questi figli questi figli si faceva sotto l'albero delle mele ma cosa ci sta la usanza che in questo haros mette le mele o non c'è la usanza perché ci sta usanza a mettere mele ma questo fa ricordare il fatto che ogni madre faceva sei figli sotto l'albero della mele perché c'è scritto che questi egiziani lo sapevano che questi ebrei fanno figli quindi che facciano gli egiziani gli ebrei avevano paura di ritornare le madri con le figli a loro casa perché il farone ha dichretato uccidere tutti le figli maschili quindi che hanno fatto quando c'erano figli maschili lo lasciavano nel campo e se voi potete dire un bambino nel campo da solo muore però no ci hanno fatto un miracolo che le sassi del campo davano miele e latte quindi questi bambini piccoli non bevano della loro madre perché la madre era ritornata a casa perché se non gli egiziani sapevano dove la madre dove è scappata quella le bambine tutto il giorno mangiavano delle sassi in scivallate e in miele vedete quanto quando la scema mi sacco di noi adesso questi egiziani sapendo che nel campo ci sono bambini quindi che facevano prendevano un cavallo questa cosa che si usa l'istrumento per agarare la terra prima che si semina e lo mettevano questi cavalli andare sempre tutto nel campo così se ci sono bambini si muorano o che miracoli succedono ogni volta prima che viene questo cavallo le bambini entrano dentro la terra il cavallo passa e dopo il bambino esce che miracoli quanto la scema è buona quindi questa ha rossa fa ricordare le due cose da un lato la schiavitù il lavoro più difficile che c'era però dall'altro lato il miracoli di questi bambini che vivono salvati in un modo miracoloso e anche qui sa di chi dobbiamo capire qual è la storia che vogliamo ricordare le cose cattive o le cose buone e ci sta ancora tanti esempi da dare però voglio arrivare al punto c'è scritto che quando Moshe era bene Kadosh Baruch lo manda al faraone e lo dice di al faraone di far uscire il mio popolo ha detto il faraone io non conosco questo Dio chi è? anche qui lui ha dimenticato troppo rapido perché tutti sapevano chi era il creatore il Dio dell'ebrei o che Giuseppe già quando ha dato la salvazione delle sogni del faraone quello che era prima o depende c'è che in che stessa farone c'è stata una discussione chi era già tutti sapevano il popolo ebraico Giuseppe che ha salvato Egitto perché comunque lui ha dimenticato e lui che ha fatto ah questi ebrei vogliono andare libro hanno troppo tempo libro loro hanno pensieri di essere della liberazione vuol dire che loro non lavorano sufficiente da oggi non c'è sassi anche le sassi anche le piedi per fare la confezione voi dovete fare ogni ebreo aveva bisogno di fare venti piedi a giorno era molto difficile e chasveshalo se uno non lo faceva per fare venti faceva solo diciannove dice non c'è problema si manca una piedra prendiamo il tuo bambino invece e gli egiziani quando mancavano le piedi prendavano questi bambini e lo mettevano dentro le piramide quindi Moshe Rabbenu quando lui ha fatto questo è ritornato a Kadosh perché mi hai mandato il giorno che mi hai mandato a questo farone e il popolo ha sofferto solo da più la verità che tra questa storia fino alla prima piaga del sangue sono passate due mesi quindi per due mesi l'ebreo hanno sofferto tantissimo solo per il fatto che Moshe Rabbenu ha detto al farone io voglio che il popolo ebraico esce e che lo dice a Kadosh Baruch Kadosh Baruch si arrabbia su di Moshe e che fai domando io ti ho detto che tu sei il salvatore di bemezza di chi e qui sta il segreto dice a Kadosh Baruch vai da bere lo kim e Moshe vai omer e la vania a scena qui ci sta il segreto il Signore parlò duramente a Moshe parlò molto duro perché parlò duro perché tu hai mancanza di fede perché mi chiedi queste domande perché ti ho mandato se ti ho mandato è per liberare il popolo non avere mancanza di fede sempre quando Kadosh Baruch giudica quando Kadosh Baruch parla duro si usa le parole elokim elokim simbolo giudizio di Kadosh Baruch il Signore parlerò duramente a Moshe e che lo dice io sono e l'eterno e l'eterno in ebraico abbiamo detto abbiamo tante lezioni già spiegato che elokim il nome elokim rappresenta il giudizio invece il nome yutke vafkei che vuol dire Hashem che viene funzionato ammonai vuol dire mister cordia benevolenza quindi che voglio dire qual è la risposta che Hashem dà a Moshe che Hashem dice a Moshe io a Kadosh Baruch il giudizio quello che giudica che punisce io sono il stesso a Kadosh Baruch che sono mister cordia che voglio dire di che parliamo di giudizio o del mister cordia e per capire tutto dobbiamo capire Avraham Avim già Kadosh Baruch l'ha detto un giorno le tue accendenti saranno schiavi per 400 anni e behemet che il popolo ebraico non era 400 anni in Egitto quanto anni era in Egitto il popolo ebraico solo 210 perché dicono le maestri che il popolo ebraico in Egitto è sceso ad un livello molto 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 basso il livello era così basso del popolo ebraico che dicono le maestri si accendevano ancora un po' solo un porto ancora di più il popolo ebraico mai aveste uscito dall'Egitto perché c'è una maestria che è venuta dopo tanti anni di schiavitù che gli ebrei sono molto molto assimilati erano casi come egiziani casi non c'era differenza tra un egiziano e un ebreo e ha detto a Kadosh Baruch Hu se quello non lo faccio uscire adesso ha detto a Kadosh Baruch Hu quelli mai usciranno d'Egitto non perché non lo perché non potevo far uscire perché loro già saranno assimilati già non può fare da loro il popolo ebraico già non possono essere il popolo scelto perché sono divenuti egiziani quindi a Kadosh Baruch Hu aveva bisogno fare un miracolo aveva bisogno fare che 400 anni di schiavitù saranno 210 e anche di questo 210 dicono le maestri che davvero schiavitù dura era solo 86 anni stessa di matra della parola del nome Elohim e come ha fatto questo Kadosh Baruch Hu una delle domande che le maestri chiedono perché gli egiziani furono puniti per la schiavitù perché Kadosh Baruch Hu ha ucciso tutti gli egiziani nel mare rosso che hanno fatto loro hanno fatto la volontà di Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu ha decretato che il popolo ebraico sarà in Egitto non era loro che lo hanno scelto quindi perché punire l'oppressore se l'oppressore fu mandato nel creatore stesso e qui la risposta è molto profonda io la maestra Hashem ha decretato schiavitù però gli egiziani hanno troppo goduto di questo schiavitù la schiavitù che Hashem ha decretato una schiavitù morbida non era una schiavitù difficile però questi egiziani hanno aggiunto allo che fu decretato di Kadosh Baruch Hu hanno fatto una schiavitù che era molto dura dicono le maestre però questa schiavitù che era dura era la nostra salvezza perché era la nostra salvezza perché 400 anni sono divenuti 86 anni perché hanno lavorato duro perché ogni madre invece di fare un figlio hanno fatto sei figli invece di aspettare 400 anni che tutti gli ebrei che devono nascere saranno schiavi Hashem ha fatto più veloce come ha fatto veloce che ogni madre farà sei figli quindi dicono le maestri tutte le sofferenze d'Egitto era la salvezza se non era per queste sofferenze duro il popolo ebraico aveva bisogno di aspettare 400 anni e se aveva aspettato 400 anni non ne aveva rimasto nessun ebreo perché erano tutti assimilati e per questo noi di Pesach non festeggiamo solo le cose buone festeggiamo anche la schiavitù festeggiamo anche lo che ha fatto il faraone con il bambino festeggiamo tutto perché perché Tzadikim tutte le sofferenze che Hashem manda è solo un parte del disegno grande che tanti volte noi non capiamo però sono a volte le sofferenze che portano la salvazione Tzadikim Giuseppe lui è divenuto viscere d'Egitto lui prima di essere viscere dove era era nel prigione perché poche hanno pensato che lui ha avuto violare la moglie del suo patrone per 12 anni lui era nel prigione non nel prigione qui in Italia il prigione in Egitto dei mille anni fa che dicono che era un buco in la terra le prigioni antiguamente erano buchi profondi in la terra una volta che uno entrava nella prigione non c'era uscita non era per 10 20 100 anni si entrava là e basta poteva dimenticare quindi Giuseppe ha dato fino al punto più profondo il carpaz ricordate il cedano che si tinge nell'acqua del sangue con le lacrime di Acom per suo figlio però di questa oscurità di questa sofferenza lui è divenuto il viscere è venuto quello che ha salvato il mondo della carestia ha salvato l'Egitto della carestia dire maestri noi in Pesach facciamo un sacrificio di ringraziamento noi nella sede ringraziamo a Kadosh Baruch Hu per tutto che succede sia le cose buone sia il vino che simbola il sangue il macchà del sangue che simbola tutte le cose belle anche che simbola questi 150 bambini giornaliere sia il carpas che non solo simbola le sei bambini che nascano però anche la schiavitù difficile sia l'amazzà che da un lato simbola che siamo usciti dall'altro lato simbola tutto il cibo che abbiamo mangiato per tanti anni solo l'amazzà e per questo noi prendiamo l'amazzà che simbola la liberazione insieme con il marò che simbola la cosa più amara lo mettiamo insieme e che mettiamo un po' sotto un po' sopra harose harose è molto dolce dirti che anche questo amaro che tu piensa tu pensi che è amaro è la cosa più dolce che ti può capitare ognuno c'è le sue sofferenze noi non sappiamo ognuno c'è le sue c'è familiare c'è parmassà c'è salute noi non sappiamo e anche non sappiamo le conti non sappiamo perché ascemmo manda le cose per una cosa siamo seguri che tutti questi sofferenze sono le chiavi per arrivare alla salvazione perché se non era per la schiavitù che era così duro e poi l'ebraico mai aveva uscito di cinto e questo Zadikim come tutte le cose possiamo un po' parlare non sono io più gradito per giudicare però prendete per esempio prendete l'Olocausto Zadikim non c'è forse una cosa più terribile che succede nell'Olocausto chi può parlare della Shoah chi ha adesso adesso stiamo per andare ora arriviamo dopo Pessar ci stiamo chi stiamo noi per parlare chi è uscito di questa questa cosa sofferenza è uscito il stato di Israele il popolo ebraico dopo duemila anni chi poteva immaginare sono ritornato alla loro terra noi non sappiamo le punti però quando arriverà il Mashiach noi vedremo che tutti questi sofferenze tutti questi punti che abbiamo vissuto erano le cose più buone che potevano essere e non c'era un altro cammino arrivare alla liberazione di questo e per questo noi ci raccontiamo la storia di Egitto perché in Egitto abbiamo visto abbiamo visto con i nostri occhi che le sofferenze hanno portato alla sangezza abbiamo visto che la vendita di Giuseppe le lacrime di Jacopo per il suo figlio Giuseppe e nel fine hanno portato la liberazione hanno portato il montagno e il sinai hanno portato il fatto che abbiamo ricevuto la Torah e per questo è la sede del sacrificio di noi è la sede del sacrificio di ringraziamento che ringraziamo per tutto però tutto è tutto anche il marò anche l'ambazzà anche il vino e anche il haroset e abbiamo detto questo vogliamo terminare lo che abbiamo detto all'inizio la chiave per aprire le porte della salvazione e l'ingraziamento per ringraziare deve essere un ringraziamento completo per tutto si capisco o non capisco però o è munà o fede nel kadosh baruchu per 210 anni e anni erano schiavi non hanno pensato mai di uscire d'Egitto però c'è fede noi oggi lo sappiamo lo sappiamo che anche dopo 210 anni di schiavitù cattiva che non possiamo immaginare quanto ci sono delle loro cattiverie se si legge non si può capire come le ebrei hanno vissuto queste cose poi nel fine sono uscito erano tutti alle montagne dei Sinai erano tutti guariti c'è scritto quando sono uscito uno era senza mano uno senza occhio uno senza gambe erano tutti feriti le ebrei quando sono usciti non erano gente sani a corpo schiavitù anno dopo anni non devo non debete immaginare quando sono arrivato alle montagne dei Sinai che ha fatto scema e guarito tutto tutti sono guariti ma stesse cose che succederà quando venire il Mashiach sarà la risoluzione del morte adesso ci sono gente che sono morti malati che succede quando viene il Mashiach loro come vanno a ritornare loro vanno a ritornare e nel primo momento saranno malati come erano prima che sono morti perché Hashem vuoi che loro ricordano come era la vita precedente e un attimo dopo saranno guariti e questo Zadikim lo che vogliamo vogliamo festeggiare Pesach vogliamo ringraziare Hashem per tutto per il bene e per il meglio i Besrat Hashem grazie a questo ringraziamento Hashem noi manderà la salvazione e aprirà tutti le porti dell'abbondanza di Zadikim e l'abbondanza di questa notte è così alta che scende del cielo nella sede dobbiamo appoggiare non è notte per chiacchierare non è notte è notte per behemè cercare di essere spirituale cercare di fare la volontà di Hashem i Besrat Hashem che vogliamo merito mangiare il sacrificio di Pesach in Bittà Magdash non è il prossimo anno ancora questo anno Zadikim Pesach kasher v'samech e Shabbat Shalom Shabbat 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 Shabbat